Il Piero punto, attenzione! Pena, poi la palla per Clayton, attenzione, brasiliano, entra in aria, Clavo Rosa per la gol, Pena. Dunque Porto è vicinissimo al gol, dopo l'azione di Cappuccio, Pena si è fatto respingere la conclusione da Biffoni. Si è avuto un ottimo ripreso anche se il pallone è stato molto centrale, non angolato, anche perché è difficile potesse metterlo dalla parte. La conclusione, attenzione, la conclusione di Beko! Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!